Un evento senza precedenti. La leggenda. Il mito. L'insuperabile Franco Baresi, leggendario capitano rossonero, incontrerà tifosi e amanti del calcio nelle terre di Manfredi. L'eleganza. La classe. La bandiera. Baresi Day. Un evento da non perdere. Sabato 3 giugno a Mussomedi. Non mancate, vi aspettiamo. Un evento da non perdere.